Sono cominciate stamattina le operazioni di abbattimento di alcune parti del complesso turistico commerciale Casalda Padeira. Il sequestro era avvenuto circa dieci mesi fa con un'operazione coordinata dalla liquota di polizia giudiziaria della polizia locale del comune di Napoli, al comando del capitano Gabriele Salomone. Lo stesso personale che oggi, coadiuvato dall'arma dei carabinieri e dalla polizia di Stato e con la supervisione del procuratore aggiunto Nunzio Fragliasso, ha provveduto ad eseguire le opere di demolizione su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli, diretta dal procuratore capo Nicola Colangelo con il coordinamento del sostituto procuratore generale Ricciardi e del sostituto procuratore Lucio Giuliano. L'intera struttura, un'area di 55.000 metri quadrati, era stata costruita abusivamente sulla collina dei Camaldoli a partire da primi anni Ottanta, in assenza di titoli a costruire ed in totale inosservanza dei vincoli paesaggistici e di tutela della collina. La prima opera di abbattimento riguarda una parte del panificio gestito dalla famiglia Polverino e di appartamenti manufatti e mansarde panoramiche in cui erano residenti gli stessi membri della famiglia. Grazie a tutti.